Ciao a tutti ragazzi e ragazze Buongiorno ragazzi e ragazze Bentornati in un nuovo video Oggi Stiamo a fare questo video Lo caricheremo anche sul suo canale E lo speciale 40 iscritti Invece a me è un video così Sarà la novità, nuovi gusti Mai visti Che è il gusto? Dove sarà? Sigaro puzzolente, un mandarino cinese Cacchetta di piccione o gelato all'ananas E cataro spugiacchioso O pesca sciroppata Chissà nel quale si capiterà Iniziamo Abbiamo preso quello di argento Vediamoli per il catalogo Questo è il magazine, fallo vedere Guardate ragazzi Mentre tu monti Montalo di là che ho fatto Il catalogo è così E dentro fa vedere Vabbè un po' le rischie al gusto E qua le cose da leggere Vedete? Qua la vetellina E ragazzi Altri consigli per le rischie al gusto E qua fa vedere Cioè qua fa dei giochi Ok vai Non ci prolunghiamo L'ultimo ragazzi Sono i fluffy slime Che non mi sono Sono troppo curiosa ragazzi Le inizio ad aprire Prendiamo le forbicine Prendiamo le forbicine Forbicine poi Ciuide E abbiamo già Odoriamo Odoriamo Oh danni Puzzano un po' Un po' Puzzano Io già l'ho provata Però le vecchissime Allora Inizio a girare la rotella Facciamo Bim bum bum Non abbiamo tutti i gusti Quindi Aspettate Monta la mano sotto Ok No questa non ce l'abbiamo No la verde non ce l'abbiamo Nemmeno la rossa Nemmeno Aspetta Devo girare meglio Dani ma io penso che devi levarlo questo Guarda Io lo levai Vabbè lasciamo perdere Allora stiamo facendo Arancione Cioè Mandarino O Cosa Prendi la caramera Aspetta No io Mandarino cinese O No insieme Ok Prendi la caramera Mandarino cinese Cinese O Sigaro Iniziamo Sigaro Fa schifo Sigaro eh Sigaro Ma bella Che Chia Abbiamo preso Dei fazzoletti Per sputare Ragazzi va E' bruttissima Dobbiamo Per Ok Ora giro io Giro Brutta Non riusciamo Grazie Mamma mia Bruttissima Bruttissima esperienza Uh pesca sciroppata Pesca sciroppata 1 a 0 Buonissima a me A me Dove Per la seconda Vasta Che schifo Che buonissima a me Dobbiamo La gialla Ce n'è una La mangiamo La dividiamo No no Guarda Via Tiro la Duotellina Gialla La dividiamola Putanda La viscione O qualcosa Ah è No O banana sprint O banana sprint Ce n'è una Ah però In questa Questa cosa Non c'è Secondo me c'è Quindi O è buona O è cattiva O è cattiva Tutte e due Sì Ma penso che è cattiva Vediamo Cattiva Banana Banana sprint 2 a 1 Buona Dai Dio dio Una volta Se ne cade Oh io Devo dire Rischia E rigira La ruota E mangia La tutta Anche se è cattiva La dobbiamo Mangiare Tutte Che schifo Ancora E ancora No E ancora E un'altra volta Rischia Dai È capitata La bianca Bianca Oddio E l'ananasso Che talimicione Te Ah no Sicura Buona La dobbiamo Mangiare Tutta In forza Quindi 3 a 2 Buona Ananasso Ragazzi Ve la stra consiglio Poi prenderemo Anche quelle oro A casa Cioè Quando le prenderò Io Che questa L'ha prese Lei Beva un po' Buona Raga Ve la consiglio Con tutto il cuore Grazie Ma io voglio provare Mutanta Mutanta Sciroppata Aranzone No Questa paura Che cos'è Mandarino cinese Ma a me non piace Il mandarino cinese È il sapore Che schifo ragazzi Mandarino cinese O sigaro Sigaro Ma è la seconda volta Che capita Ma è come quello là Del catarro Sputacchioso Io Io non l'ho beccato Il catarro Ho beccato Il pesca Un'altra volta Pesca sciroppata Pesca sciroppata Pesca sciroppata Quindi 4 a 5 Giusto Buona Pesca Buona Ok giro io ora Sono quasi finite Le caramelline Raga No Ma penso che ora Dobbiamo mettere qualcuna Prendiamo queste Ora Prendiamo un attimo Questo No vediamo Vediamo che è uscita La bianca Di asola O cacchetta Di piccione Scusa ma fa schifo La cacchetta Dall'inizio Intera Che schifo Intera anche a me Si sente da qua All'america Che cacchetta Facciamo Questa lanci Almeno Ma questa deve essere La buona O è il mandarino cinese Che fa schifo No pure Si il mandarino cinese Perché non c'è uscito Un altro Ah no si c'è uscito Un altro Il mandarino cinese Ecco per cavallo Sputacchia Catarra Sputacchia Buona Buona E' buona Facciamo Bim bum bum Chi deve Prendere questa Pari La mangia La bella Mangia Tutta Si Due Cacchetta Vai Tre No Ma schifo Tre Due Uno Buona Giornata Alla 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 No io la Mangio Alla Ho vinto No perché S'era 5 Ma ho 6 No E tu non l'hai mandato Quindi s'era 5 E ho vinto No Abbiamo vinto Tutti Perché 6 6 Ma No Pareggio No Ragazzi Ditemi se sapete fare questo Ah ragazzi Comunque l'avete visto Questo Sì Lo fate